Il Roero è una terra ricca di contrasti e sfumature, culla non solo di una fiorente viticoltura, ma di produzioni agroalimentari d'eccellenza. Ne è un esempio la pera madernassa, frutto croccante e asprigno con note agrumate da sempre considerata un vanto per la cucina tradizionale locale. Il Roero è una terra che vanta ancora oggi una biodiversità che in altre zone del Piemonte non riusciamo a trovare. In particolare la pera madernassa è una cultivar antica, ci sono degli studi che vedono la sua origine alla fine del Settecento e ha delle caratteristiche che la rendono anche una pianta molto meno soggetta a tutta una serie di malattie che invece altre tipologie di piante possono incontrare. Per questo è un prodotto riconosciuto che grazie anche al lavoro dei nostri coltivatori viene sempre più valorizzato, in particolare viene valorizzato con fine quello di interessare sempre di più il consumatore finale che lo trova molto spesso sempre magari nei menu dei ristoranti e viene quindi in questo modo anche diciamo vantata tutta la grande qualità che riusciamo a portare sulle tavole dei consumatori. Le caratteristiche della pera madernassa naturalmente come pera è conosciuta come una pera da cuocere anche se negli ultimi anni è stata rivalutata anche per il consumo al fresco quindi storicamente la pera madernassa era una pera di pezzatura medio-piccola anche perché le piante non erano elevate a spaliera ma erano elevate grandissimi alberi quindi una grandissima produttività e quindi naturalmente la pianta otteneva dei frutti di pezzatura più piccola. Ultimamente, anche proprio perché il mercato le richiede, si tende a avere un frutto con una pezzatura più elevata quindi delle pezzature appunto medio-grandi. Purtroppo quest'anno è un'annata che per quanto riguarda il comparto delle pere è un'annata molto scarsa quindi a livello di produzione vi era già stata una legagione molto scarsa e una cascola anche per quanto riguarda alcune varietà quale le abate per fortuna la varietà madernassa è una varietà molto rustica che possiamo definire anche una varietà molto generosa dal punto di vista produttivo infatti per quanto riguarda le pere le madernassa sono l'unica varietà in cui possiamo stimare una produzione circa al 70% del suo potenziale dell'annata normale. Come tutti ben sappiamo gli eventi climatici non sono stati favorevoli quindi le piogge primaverili, il caldo torido estivo e in più in alcune zone della nostra azienda, principalmente nel comune di Guarene una fortissima grandinata che ha pregiudicato la maggior parte dei nostri raccolti. Fortunatamente questo appezzamento è stato graziato dalla grandine e abbiamo ottenuto un prodotto di altissima qualità, ottima pezzatura e una buona quantità. Come molte specie autoctone la pera madernassa è rimasta a lungo sconosciuta e più con un utilizzo limitato ai contadini della zona fino a quando nel 2015 a Guarene un gruppo di giovani produttori e imprenditori locali decide di fondare il Consorzio per la valorizzazione e la tutela della pera madernassa di Guarene e del Roero con lo scopo di promuovere il prodotto e agevolarne il commercio interno ed esterno. Ce ne parla Daniele Occhetto, presidente del Consorzio oltre che proprietario di un'azienda ad indirizzo misto viticolo e frutticolo. Il Consorzio nasce nel 2015, è un piccolo Consorzio che conta circa una trentina, 27 soci abbiamo deciso di chiamarlo Consorzio della pera madernassa di Guarene e del Roero perché naturalmente la pera madernassa non è di un solo paese quindi non di solo Guarene ma di un intero territorio, quindi dell'interritorio del Roero. Il Consorzio è composto fortunatamente per la maggior parte da produttori relativamente giovani comunque giovani che hanno voglia di far conoscere le qualità della pera madernassa. Naturalmente l'attività del Consorzio è molto importante dal punto di vista di promozione. La nostra azienda ha dato vita a un progetto che si chiama Progetto Iuppi progetto di fattoria didattica che ha come scopo quello di avvicinare, sensibilizzare il consumatore finale partendo dai più piccoli in particolar modo ma anche con gli adulti al mondo della frutticoltura quindi andando a puntare sulla stagionalità, sull'importanza dell'attività dei contadini, degli agricoltori nel mantenimento del territorio dando risalto ai prodotti a chilometro zero quindi i prodotti locali che sono il tessuto della nostra economia. grazie grazie grazie